Lui si chiama Marco Anelli, ha vinto un disco per l'estate nel 1851, ma regge ed è sincero signori, è un grande artista, dunque su questo palco lo chiamo ufficialmente che ci canterà una canzone bellissima di Massimo Ranieri. Sul palco con noi Marco Anelli, poi vi dirò che cosa fa questo ragazzo oltre che cantare, adesso non dire niente, canta e stupisci, con quello, non lo so, con questo? Sì questo, con quello, prego, perfetto, non era l'851 comunque, non nemmeno mai, vai. E adesso andate via, voglio restare solo, con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri, credevo fossi un re, perderemo quando si fa sera. Quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era, provi fintazzire, posso scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. E vorresti urlare sul colore in cielo, sbattere la testa, pigli molti contro il muro, respirare forte nel tuo cuscino, dire tutta colpa del destino, senti o vicino. Comunque ti capisco, e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, che sa che pretendevo. E adesso che rimane, di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo, che ancora ti rompere, perdere l'amore. Quando si fa sera, quando sui capelli un po' d'argento, di colora, provi a immaginare, fai l'indifferento. Fino che ti accorgi che non sei servito a niente, ne vorresti urlare, riniegare il cielo, sbattere la testa, pigli molti contro il muro. Respirare forte nel tuo cuscino, dire tutta colpa del destino, senti o vicino. Perderai l'amore, maledetta sera, che raccogli i cocci, in una vita immaginaria. Menti che domani è un giorno nuovo, ma ripeti, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Sbattere la testa, mille volte contro il muro, pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Perderai l'amore. Perderai l'amore. Grazie. Signori, Marco Anelli. Questo ragazzo che ha un talento meraviglioso, anche lui, come tutti i nostri ragazzi in questo palco, io prima l'avevo annunciato dicendo che ovviamente lui ha vinto il disco Pallestate, 1851 in realtà. Lui è sempre, ma perché ho modo di dire che non c'è più quel premio, peccato perché era un bellissimo, era una vetrina importante per i giovani. L'abbiamo vinto noi e poi togliamolo. Erano in due i fratelli, i gemini in realtà, dunque Marco e Stefano. Però invece lui, a parte cantare, che lo sa fare molto bene, ha una passione, una passione che conduce anche a un programma televisivo che si chiama Cani e Gatti TV Channel. Andate a cercarlo, questo programma, anche su web, che c'è sicuramente, perché potete magari segnalarle, se avete qualcosa da dire, in merito al mondo. Perché i furbetti ce ne sono veramente tanti, ecco, questo è importante. Edo per Striscia sta facendo un lavoro veramente eccezionale e io se posso dare una mano, anzi lo faccio più che volentieri, quindi per qualsiasi cosa davvero contattateci pure, io mi faccio avanti, insomma è importante. Marco Anelli, Cani e Gatti, TV Channel. Grazie!